Buonasera ragazzi e benvenuti sul mio canale dico buonasera per chi sto registrando il video di sera tipo luna quindi parlo abbastanza a bassa voce scusate la qualità delle immagini scusate la qualità audio ma adesso vi incommento in cui ho un po' di tempo libero quindi provo a registrare un'introduzione il mio canale tratterà soprattutto di ovviamente beauty skin care, hair care e insomma riguarderà tutto il regno regno se così si può chiamare riguarderà tutto il regno cosmetico e parlerò però in particolar modo di prodotti che sono certificati cruelty free che sono prodotti che hanno una totale essenza di tesso animali sia diretti che indiretti ovviamente c'è già la legge però come ben sappiamo la legge non basta però questo è un discorso ampio che tratteremo dopo ecco come vi dicevo uso prodotti cruelty free, uso prodotti biologici, ecologici e soprattutto made in Italy ovviamente dove non posso usare prodotti che siano ecologici, biologici cruelty free e made in Italy mi arrangio con il meno peggio cerco sempre una buona e valida alternativa per cercare di arrabbattarmi un po' ecco insomma non si può essere 100% ecologici, 100% biologici in tutto oppure 100% cruelty free come molti di voi sanno amo gli animali sono vegana quindi per me tutti gli animali hanno lo stesso volore e su questo canale e soprattutto sulla mia pagina facebook vedrete moltissime iniziative volte alla raccolta soldi per aiutare pelosetti oppure per aiutare canini, gattili insomma qualsiasi tipo di animale che possiamo aiutare lo aiutiamo molte di voi mi hanno aiutato tantissimo ma tantissimo nella raccolta soldi oppure nella vendita di libri, vendita di trucchi insomma mi hanno dato una mano sostanziosa insieme abbiamo potuto fare un grande cambiamento nella vita di qualcuno sembra poco ma in realtà è tanto è tanto riuscire a dare qualcosa di se stessi e anche gli altri dedicare il proprio tempo, dedicare le proprie energie quindi per questo sono grata sono felice di aver aperto la pagina per questo mi sto dilugando tantissimo ok basta fine il video introduzione finisce un po' perché se no vi annoiate questo è quello di cui tratterò beneficenza, video review, tutorial, prodotti cruelty free ecologici, biologici, made in Italy e tutto l'ombaradam spero che gli argomenti vi interessino e se avete dubbi, domande ve le potete fare su twitter, instagram, facebook mi lascio tutti i miei indirizzi, tutti i miei contatti nel coso box ecco lì sotto nel coso insomma avete capito ciao ragazzi, un bacione grosso